salve a tutti i miei cari zechini e ben ritrovati in questo nuovo video dal vostro serpere zechini come vedete mi è arrivato un altro sondaggio a me voi dite che non mi arrivano mai questi sondaggi ma a me mi arrivano e quindi ora ho 3,71 euro andiamo a vedere il sondaggio qui si dà l'ok allora due domande sole sono in genere come scopri nuove app per smartphone navigazione all'interno dell'app store pubblicità vista mentre navigo sul web consigli familiari consigli dell'app store post social network consigli visti mentre utilizzo altre app boh una carpa solo ah bene bene vediamo ok qual è il motivo principale più frequente per cui acquisti un app anziché utilizzare alternative gratuite la par buona legge c'è l'app non la pubblicità l'app ha contenuti migliori non utilizzo app a pagamento no diciamo che non la pubblicità vai fine e ci da 8 centesimi sempre due domande sono 8 centesimi bisogna trovare le domande quelle da 6 da 7 centesimi da 6 7 domande ragazzi e bisogna rispondere in modo che ci faccia la domanda successiva chiudiamo la 3,71 va la 3,79 esatto e niente ragazzi se volete scaricare l'app l'app è la rewards la suncima mi raccomando scaricatela la potete usare anche per abbonarvi al mio canale e anche per donare quindi ragazzi vi può sempre essere utile per sostenere i vostri youtuber preferiti cioè me quindi iscrivetevi al canale sapere zekin abbonatevi al canale avrete la vostra casina nella Sircraft e noi ci vediamo nel prossimo video ciao zekini